Prudente soddisfazione da parte della provincia di Sondrio per la soluzione trovata al problema della Stadale 36. Si mi soddisfa perché soprattutto vuol dire che ci sono delle persone, dei dirigenti, delle istituzioni che si sono impegnati per trovare una soluzione nel breve. Dovrebbe riaprire questa canna sud in doppio senso di circolazione e poi per quel che riguarda la nord invece i tempi si allungano perché è inevitabile, perché va messo in sicurezza tutto il versante e quindi si parla per il momento di un mese, poi vedremo. La vicenda ancora una volta ha messo a nudo la vulnerabilità dei collegamenti viari della provincia di Sondrio e con il resto della Lombardia. La Valtellina è collegata con un'unica strada e abbiamo anche un unico binario se vogliamo fare il parallelismo con le ferrovie e quindi è chiaro ed evidente che questo è un problema, un problema che c'è sempre stato, ma ritengo che sia un problema con il quale i valtellinesi, i nostri valligiani hanno imparato a confrontarsi e quindi a conviverci. È chiaro che è difficile però sono quelle sfide che noi in provincia di Sondrio abbiamo sempre accettato e abbiamo sempre portato avanti con caparbietà e con testardaggine e quindi i risultati poi ci sono stati e sono sicuro che ce ne saranno ancora. La stagione invernale è finita ma già si guarda a quella estiva e poi c'è il problema del trasporto merci che le nostre aziende affidano quasi totalmente alla strada. Anas non ha perso tempo, dice Moretti, ma la preoccupazione c'è. Queste reti servono per salvaguardare la strada dal versante e quindi non servono per mettere in sicurezza il versante e quindi questo è chiaro che qualche problema in futuro ci potrà ancora essere. Ma io ritengo che, come dicevo prima, siccome confido nella capacità di chi ci sta lavorando e si sta impegnando io sono sicuro che i problemi vengono affrontati e vengono risolti e quindi io mi sento di dire che anche la stagione estiva che è alle porte non dovrebbe avere dei contraccolpi. La Valtellina guarda all'immediato e al futuro in testa le Olimpiadi. È l'unico collegamento che abbiamo con il resto della Lombardia, l'unico collegamento importante. E quindi questo è un limite che abbiamo ma io sono sicuro che in prospettiva anche di Olimpiadi che oggi poi siamo portati a dire si pensa alle Olimpiadi quando abbiamo di fatto un problema sulla strada. Ma io penso che il problema debba essere invertito, nel senso che comunque le Olimpiadi rappresentano un'opportunità, un volano anche per mettere in sicurezza le nostre infrastrutture.